Disegno un Pokémon ispirato ad una salamandra italiana. La famiglia dei pletodontidi sono interessanti perché non hanno i polmoni. Respirano dalla pelle e dalla mucosa buco-faringea. Per questo sono diffusi di solito in grotte molto umide. Nel nostro paese il genere Speleomantes è rappresentato da sette specie endemiche, cioè specie che si trovano solo ed esclusivamente qua. Hanno una lingua allungabile come quella dei camaleonti per catturare le prede e sono noti per avere cure parentali. Questo infatti sta sorvegliando le uova. Obscute, in quanto geotritone, così sono chiamati comunemente questi animali, vive nelle grotte umide e quindi di tipo acqua buio. Speleotto, oltre ad avere la sua bella linguona allungabile, ha pure un uovo che custodisce nella coda. Nell'uovo, se guardate, c'è già la faccia di un obscute che si sta sviluppando.